Flavia Capone, Andrea Manzi e Lino Paraduno sul libro del professore Isaia Invecchiare senza invecchiare. Flavia? Questo libro permette di fare una riflessione sull'opportunità di prepararsi alla vecchiaia anche se può sembrare un argomento difficile da accettare, è però effettivamente molto importante. Credo, e anche il libro lo sottolinea, che sia altrettanto importante come diceva anche la signora Fonda, lo stato mentale e in questo devo dire anche la società e lo stato possono giocare lo stato inteso come stato, possono giocare un ruolo importante perché invecchiare bene è anche una questione di privilegio cioè chi può farlo e chi non può farlo e da questo punto di vista un livellamento sociale sicuramente aiuterebbe.